Ciao, benvenuti a tutti, benvenuti a Mango Italiano, siamo Marco e Fabio Benvenuti a tutti e oggi dovremo sapere come fare il nostro focaccia Vediamo gli ingredienti 470 grammi di farina 90 grammi di uova 230 grammi di acqua 45 grammi di oliva extra virgin 25 grammi di vino bianco 16 grammi di zucchero 5 grammi di oliva 12 grammi di salto un po' di tomatina e rosemary e il salto di Maldon In un mixer planetario, collegato con il filo, puoi l'olio e il salto insieme e il salto di Maldon In un po' di tomatina aggiungiamo il gara e il zucchero il scello il salto il acqua il salto di Maldon e il salto di Maldon da Maldon con il rischio il salto di Maldon e il salto di Maldon del liquido in il tuo mixer planetario poi aggiungere l'olio extra virgin olive e aggiungere l'olio e poi aggiungere il resto del liquido lascia lavorare per 15-20 minuti fino a che ricevessi questo risultato con l'olio di una spatola trasferite il mixer in una superficie di lavoro e cominciare a portare l'olio poi aggiungere l'olio in una pioggia e copertela con la crema poi aggiungere l'olio in un'olio con l'olio e lascia riuscire per 2 ore aggiungere l'olio di olio in una pioggia e utilizzando i tuoi pioggia spiegare l'olio di olio in una pioggia questo evitare la pioggia da stendere al pioggia ora siamo pronti per trasferire il pioggia in una pioggia e aggiungere il pioggia e aggiungere il pioggia come questo guarda scopertela e aggiungere il pioggia e lascia riuscire per un'altra ora con le tappe di tecnici e aggiungere il pioggia 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 all'olio e aggiungere il pioggia è così tante non posso aspettare grazie per guardare il nostro video e vediamoci in breve a presto ciao